Negli avamposti mi sa che si possono fare Io ho una missione che mi dice di parlare con tre persone in giro per tutto questo Ho visto, ma Dede sta lavorando, uno ne abbiamo quattro addosso Uno, ce ne sono una decina almeno Un culio veramente Porco diete Voi siete sicuri di voler scendere qui? E io ormai sono sceso Eh dai Ci possiamo fare un pensirene Che cazzo Eh uno è già morto Matto Chi stai già matto Ricarichiamo i colpi del fucile Eh vabbè No ma questo è quello che avevo prima addosso Questo è già morto Pure lui Uh grande Molto di armi c'erano qui Chi che è morto? Eh io ce ne ho uno qua di piatto E' senza il cazzo No ma ce ne sono altri tre Sì Ma c'era troppa gente qua comunque Ce n'è uno qua, uno qua Eh quello Non batti di gente Sì Non mi arrivo da Andre così Io non ho una mano Dove che sei tu? Non te vedo Fucile assalto ranger Ma te sei scemo Ah sono in due qui Ce ne sono tre Ce ne sono tre dentro qua E uno è andato L'altro è qua da me Dietro di me L'altro è morto Eh ce ne sono uno qua sopra Eh no 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 Non ho munizioni Per cui Io non riesco a rianimare cosa Eccolo 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 Eh c'è morto Eh ma c'è morto anche Michi Si perché è la sparata d'ora Adesso vado a rianimare Eh minchia purtroppo appena sono sceso Eh si te li si è beccati Tre davanti praticamente Eh Molto Molto praticamente si Mmm Comunque i funghi Quando ti puoi vicino Li puoi consumare Li puoi Cioè li devi consumare Non c'è bisogno che per forza li prendi in mano Ehm Consuma con quadrato Vedi? Li consuma automaticamente C'è prima Tanto c'è anche la sfida Parco Dio L'ho incastrato Nooo Soprire fuori dalla zona Bim bam boom Parco Dio Belzebun Uh pizza Tu cazzo è lontana la zona Sì ma perché Sai fare pizze? Ah cazzo La tempesta è in arrivo Oh ma che cazzo Bono Bono Che cazzo c'ho da dietro? No questa La mitrailletta Lancia granate leggendario Che cosa vuole? Io? Dove? Ah no doglielo amiche ma Piglialo piglialo Vai 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 Non ti preoccupa Faccio io? Non ti preoccupa Vai 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 Non mi piaceva Lion Vai 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 non ti preoccupa No qua da noi no Parco Dio Ma vai dove ci sono i tre puntini? Il carico di merda Il carico di merda Perché è pusa Che ti viene E allora Può secappare una volta e poi una volta no Ma una volta e una volta E ti ho detto Ma se non c'è scritto a soldi Perché non lo puoi assoldare allora? Ma non è il nonnetto comunque questo Non è Ludwig Fucile a pompa Ma ecco Papai che trovo Mi chiamava Che dite? Andiamo verso Salvataggio? Eh si Siamo abbastanza lontani Chi è che ha sparato di voi? Io no Guarda di come si diverte con quelle cazze da niente Mi sa che c'è qualcuno che sta sparando al drago Eh ma è deficiente perché gli toglie uno Super charica finita Qua ci sono grandi cazze Vabbè siamo vicino alla zona Siamo lontani Adizioni è fatta vedere la roccia Cecco, Cecco Cecco, Cecco Ma tanto è grosso sto cosa Aia Ma altri funghetti? Magari Ma E gli fa la risata malefica Ma che sta facendo? Se gli spara con l'alciagranata? No Robert No Ma chi si è sceso? Qua c'è una cosa nebbia Dovrebbe imparare la lezione Eh il problema è che l'hai impari tu e non lui Ma no, l'alciagranata è buono Poi gli do un pezzo di pizza e vedrai come me lo compro Ma come io se lo compro? Ma che è? C'è gente davanti Come sa? Ho sentito degli spari Ma non li vedo più però Ma o me? L'ho sentito anch'io ma E ci ha giocatito Ma porco Mi guarda che sto cazzo di fucile? Oh, ma ormai Bim bam bim E giù Eh, ora vediamo Questa l'hai fatta sta sfida? Ma non so se ce l'hai Perché è un coso Dobbiamo trovare sti cazzo di nascondigli pure Ma cazzo sono sti nascondigli? Merda Aspetta fammi parlare con quello con i tre pallini Eh prova In teoria quello che puoi assordare c'ha i tre pallini no? Si Dovrebbe Ma No Salve Guarda me Lo scienziato No, non lo puoi C'è soltanto il cecchino esplosivo Oddio Ma no, ma non sono questi quelli che assordi No, sono tipo quei soldati lì Che cazzo c'è qua? Un'altra pizza Qua c'è qualcuno che spara Guarda me C'è qualcuno che spara ma non lo vedo Ma dammi chi come mi segue c'è qualcuno che spara? Ahah Arrivo subito E' brutto da dire ma ti sono dietro eh L'ho visto Non so dov'è lui però Ma qua le bacche baccose Sono quelle le bacche Aspetta erano qui da qualche parte Eccole la Non qua le bacche Si dico a cosa che servono? Ehi Di le lanci addosso al drago Te lo segnate col puntino rosso Guarda che Oh c'è, oh c'è C'è gente proprio qua sotto Eh si Ecco, 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 ecco Guarda questo E' c'è morto Dai pappa Ancora Arrivato E uno è andato E uno è andato E' andato anche questo C'è un altro in fondo E' un altro Ah cazzo E' lì e lì Fanno ste cazzi di scale Costruiscono, fanno tutto Ah mi voleva prendere qualcosa Cazzo Cazzo Vieni ti colpico E fa le costruzioni Ha fatto Mike buongiorno Sta a fare qui però questo Eh Ha venuto da te? Si si è qua e qua Sto Cercando di scopare Si se lo vediamo Gli spadi non muore Si Vabbè, eh mi costruisce le cose Io non c'entro un cazzo Però Eh dietro Ho visto Preso Mi chi ha sciattato con colpo? Che culo Fancula Porca troia Ho sciattato con un colpo di fucile Perché mi è rimasto solo quello Porca troia Guarda quanta roba che c'aveva questo qui C'è il cecchino Quello Quello sempre blu Eh adesso io lo tiriamo su Mi faccio fuori anche questi E io mi fotto pizza Ok Che caccia c'ha ancora Quale tipo che c'aveva? Oh la mitraglietta Andiamo a un botto di cose questo Oh guarda il cerco viola Eh ma sta arrivando la tempesta Eh quello 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 Ah lì c'è un maiale Com'è che faceva Python a Harry? Tuo padre ero un maiale Il problema è che voi ci potete salire Non ci posso salire là sopra E' da due il posto Quanto è lontano la zona? E' anche tanto Tanto? No no non è tanto lontano Tu con le ragnatelli ci arrivi Però poi vai a dischiare che se tu becchi qualcuno davanti sei da solo poi Se ce li avessi Andre Spacca i cessi Spacca i cessi Da davanti Il bagno chimico spaccalo Che ce ne manca uno per fare la sfida Tu 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 Eh dai mi è andato bene Mh In realtà siamo quasi arrivati Ma io c'ho Si c'ho no di roba da mangiare Qualcuno si sta paracadutando con qualcosa Parcottino Di pochissimo Ehi Ehi sono più veloci dalla tempesta Ehi Ce l'ho fatta E' sempre qua stiamo messi bro Ce n'è uno lì E c'è anche quel paracadute Ecco l'ho visto Eh si ma continua 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 ad andare su quella cazzo di cosa che era in balza Ehi Spaccagliela E' un po' proprio un cazzo Oh c'è che ce ne sono due qua sotto Ce ne sono due qua sotto Ce ne sono due qua sotto Questo Il problema che sta costruendo Ce ne è uno dentro la casa Ecco lì E abbiamo visto Torca cazzo Chi rumore Si perchè si sta curando Eccolo Ecco l'ecolo la sopra E' in quel piano lì c'è tutto un team c'è lì dentro mi sa che si vuoi da solo o è tutto un team? no è tutto un team perchè ci sono tre persone oh e questo? andrei vieni qui c'è amici vieni qua da me ho messo il coso per curare buono ne manco questo c'è i cosi ecco eccolo è da me infatti sono da me due e uno è andato giù e uno è morto cazzo 9 colpi mi sono rimasti che sfiga ecco loro si stava curando si stava curando ma dobbiamo andare via dobbiamo andare via c'è la tempesta c'è la tempesta cazzo minchia mo l'ho vista sta cazzo di tempesta uno è andato porca troia la tempesta si ma non c'ho più i colpi di niente cristo dio anche vicino alla zona ah ho eliminato uno pure io mi sa che siamo dieci porco dio c'era qualcuno sotto porco dio non mi fa prendere sto cazzo di veicolo di merda c'è andrei che mi ha fatto saltare in aria che cazzo che volo o c'è quello lì c'è la barca a sparire i missili se ci vede eh se ci vede eh porco dio mi fa prenderebbero sti cazzo di colpi ma questo sai quello del fucile d'assalto che cos'è quella? è mitraglietta comune cosa sono i proiettili? i proiettili? si eh li sta pigliando cosa? eh miti eh eh aspetta che mo te li do tu te li do qua? allora eh dio cane ma con sto cazzo di tasto sta ballando eh mi balla allora i medi? si leggeri medi eh come faccio a lasciarteli quadrato si oh buono buono 218 va bene siamo in zona giusta mi sa e chi stai sparando? ah quelli da sopra per cui dio quanto pazzo è lontano siamo a 3 contro 3 io per una volta ho preso preso? no che figura con tutto il movimento tutto il movimento e allora qua siamo uuuuuh costruisci strutture 16 su 25 si uno l'ho visto è qui ah ok palle quando fanno così non so sul cazzo quando costruiscono perché qui stanno mille mille oh ah c'è lanciagranate c'è eh non ne ho più ah beh che suono ti vuoi costruire all'infinito io c'ho i colpi del vieni qua vieni qua che c'ho i colpi del lanciagranate qua qua qui c'è ne ho sganciati 8 praticamente eccolo lì l'ho visto si ma continua a costruire comunque questo eh si è teletrasportato via con spiderman spider podcast si metterà dentro vada si ce n'è un altro soprattutto lì lì un altro soprattutto ancora eh ma si sta chiudendo su di noi la zona comunque aspetta che faccio così ecco faccio la finestrella così potete sparare spider power spider power gesù cristo tu mi spari che cazzo sbagliato io contro mia ah vuoi mettere il che cazzo hai tirato giù che cazzo avete combinato e ma piafoco tutto oh c'è chino là sopra c'è chino lì sopra ma togliti dal fuoco Mickey sennò continui a a piafoco all'infinito c'è uno squallo qua sotto lo sai? ui la madonna che distanza Mickey c'è morto quasi stanno venendo qui? sì sì eccolo anche questo c'è morto e uno è andato occhio che c'è quello dietro eccolo ah siamo ne sono due ancora due ce ne sono eccolo uno è da me qua è andato e l'altro non so dove sta chi sta c'è morto? mi devo curare parco dio ma sto senza un cazzo ok io ho un pc di vita ehi vieni qua da me che ho la bomboletta eh vieni Mickey dove è stato? dove è stato? non so dove è lui però qua dove cazzo tu è? oh ma cazzo sicura subito lui occhio che si sta chiudendo anche questi piglia questi qua ah ma da dove sta lui comunque non so dove è lui comunque eh infatti sta lì sta lì sta là in fondo per me sta là dietro da qualche parte di dietro c'è anche lo squalo in mezzo fai un po' tu vai buttati in acqua porco dio ho squalo dietro al culo eh si sarà qua sopra lui gli ho distrutto ecco dammi 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 un po' dietro vacca e regge è andato dove andrà lì?